Ciao ragazzi, sono Eppi, bentornati su Mega Wow! Oggi con noi c'è Sofì! Ciao Eppi, sono felicissima di tornare qui su Mega Wow! Oggi, siccome te mi conosci bene e sai che mi piacciono molto le LOL, oggi faremo una sfida LOL per Vibes! Abbiamo le Glitterate, e abbiamo l'Opposite Club, il Glee Club, il Glam Club, il Retro Club, e l'Athletic Club e lo Swing Club. Noi siamo state molto molto fortunate e abbiamo trovato tutta la collezione tranne un doppione che avevamo già. E abbiamo anche l'Ultra Rara! Ma adesso, Eppi, passiamo alla sfida! La sfida consiste nel... Io girerò la ruota del mistero e verranno tipo un'acconciatura, tipo capelli ricci, codini. Io dovrò scegliere una bambolina e mettergli quei capelli in 30 secondi. Però per prima cosa io dividerei i bambolini e i capelli. Brava! Giriamo la ruota! No, cosa uscirà? Crocchiette! Quindi gli devo mettere... Tre, due, uno, due! Sceglie con lei, gli devo mettere due paie di crocchiette! Gli ho staccato la testa, mamma mia, poverina! Allora, io gli ho metto una cos'è, un'altra paia di crocchiette, un'altra paia così, fatto! È in realtà che mi ha detto magari! Fatto! Crocchiette! Vediamola, com'è brutta bella? Crocchiette da una parte, crocchiette dall'altra! Perfetto! Numero uno, funzionato! Lasciala così ora adesso lei, eh! Oh, girare! Mix! Via! Uso lei e faccio un bel miscugiotto! Userò questa parte qui, così! Una liscia! E una crocchia! Questa è un po' strana, Sofì, eh! Però è molto bella! Vediamola! Aspetta, aspetta, ho sempre tempo! Dieci secondi! Nove, otto, sette, sei! Sono un po' stranagante, vi piaccio? Sono un po' riccia e un po' codina! Presto, Sofì! Questa è la numero due! Non ci sta più qui! Bene! Numero tre! Eccola! Coda di cavallo! Via! Usa lei, che è staccata la testa, e mettiamo questa coda e una coda, un'altra coda, ecco! Ma sono code! No, sono codine quelle! Qual è la coda di cavallo? La coda di cavallo è una coda di cavallo! E si dita una sola coda dietro! Attenzione, sette, sei, cinque, quattro, tre! Adesso ce n'ha due sorte! No, sono code queste! Vieni, mettigli la testa e faccela vedere! No, come faceva a fare le code? Allora... Come faceva a fargli le code? Guardiamola un po', nell'interpretazione di Sofì, questa è la coda di cavallo! Un po' strana, eh, in verità! Guarda, 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 ti faccio vedere! Guarda! Così forse sarebbe già andata meglio! Coda di cavallo! No, no, no! Eh sì, eccola di cavallo! Quarta combinazione! Mix! È venuto Mix! Molto intrigante! Hai trenta secondi! Aspetta, aspetta! Devo! Mix significa due stili diversi, eh, Sofì? Dieci! Nove! Non veiclo! Ah, aspetta, ho sempre tempo, quindi le posso mettere... Cinque! Blu! Quattro! Tre! Due! Uno! Ta-da! Guarda, lì ne mettiamo anche questo! È un po' strana, eh, direi che c'ha un ciuffo... Vediamola bene, aspettami! Eh, ma è un mix! È un mix, hai ragione! C'ha un ciuffo rosa, dei capelli ricci sopra e un bel frisè dietro! Andiamo alla cinque? Sì! E via! Trecce! Trecce! Via! Aspetta, tieni! E le faccio trecce! Andiamo, cerchiamo le trecce, le trecce! Che trecce! Queste sono trecce, no? Sì! Le trecce! Pensa, pensa, Sofì, pensa! Cosa ci potrebbe stare bene insieme? Trecce delle trecce! Delle trecce! Trecce! Ah, ah, ah! Sono treccini, no? Allora, aspettate che i trecci... Mi è caduto un mezzo dietro! Mi sono caduti, un attimo! Adesso ve la facciamo vedere, la povera... Allora, così è bellissima! Poi succede che si gira e... Mi sono sbagliata a fare la tinta! E ma dovete come gliele facevo? Va benissimo, dai! Sono treccine! Giro numero sei! Ai, ai! Sì, cosa è? Frisè! Via! Allora, i frisè, prendiamo lui! Lui, 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 li mettiamo i frisè, è bellissimo! A lui non glieli posso mettere i frisè! Ma non chiedà! Li prenderò a lei! Niente, stavolta non va bene! Sofì non ce la farà! Frisè! Anzi... Non vale cambiare! Frisè! Cos'è il più bellino? Eh, va bene! Vediamola un po'! Wow! Ta-ta! Il risultato finale del frisè! Vai! Io volevo mettere il frisè al maschio, non potevo! Giro numero mille mila! Crocchiette! Ma le ho usate tutte e due? 3, 2, 1... Ma le ho usate tutte e due prima! Tutte e due prima le ho usate le crocchiette! Tan tan tan! Sapevo che sarebbe venuto il momento in cui Sofì non sapeva più che cosa scegliere! Perché le crocchiette erano finite! Le aveva messe tutte a quelle di prima! Guardate, lei ce ne ha 4 adesso sulla testa! E Sofì è rimasta senza! 2, 1... Allora, lei è bellissima! Sì! Bella, bella, bellissima! Però Sofì... No! Allora, perché? Queste due, una e due crocchiette e poi mille crocchiettine! Niente! Uffa! Eliminata lei! Pronti per il prossimo giro? Via! Trecce! Perché trecce? Via! Adesso voglio vedere come se la cava! Nemmeno una treccia! Gliela farò io la treccia! Sette, sei, cinque, quattro! Fatto! Alle trecce! Chi si stacca? Giudica te, Happy! Sono trecce queste? Lascia! Mi sento anche un po' pelata perché qui sono crollata! Ciao! Anche io sono eliminata! No! Ultima possibilità Sofì, d'accordo? Ok! Ultimo giro! Yes! Frisee, so che cosa mettergli! Tre, due, uno! Via! Via! Adesso il frisee gioca facile Sofì, guardate un po' dove è andata a pescare! Fatto! Dov'è la testa? Scusate! È il carnevale! E il nostro frisee è servito! Eh no! Però ce l'hai il frisee! Vediamola! Cado nel frisee dietro! Uh! Super frisee lei! Un po' di color! Anche qui sulla tinta ci avrei da ridire, ma bellissima! Allora Sofì, com'è stata questa challenge LOL? È stata divertentissima! Guarda quante combinazioni strane! Ed è proprio questo il bello di queste nuove LOL cambia look! E Happy! Spero tanto che queste LOL ti siano piaciute! Mettete i like! Iscrivetevi al canale di MegaWow! E anche al mio canale Sofì gioca con me! E mi raccomando, attivate anche la campanella! Ciao Happy! Alla prossima! Bene ragazzi, il video finisce qui! E noi ci vediamo lunedì! Ciao!